Conoscere se stessi è il percorso psichico della psicosofia, disciplina scientifica della psiche ideata da professor Fausto Presutti, psicologo, psicoterapeuta, esperto internazionale di scienze umane e fondatore e presidente di ISPEF, l'Istituto di Scienze Psicologiche dell'Educazione e della Formazione, e della Rete ECE, il Centro Europeo per l'Educazione. Psicosofia è parola composta da psiche, che in greco si riferisce all'anima, al principio, al respiro vitale, e sofia, sapienza, saggezza, dunque la sapienza, la conoscenza della psiche. La psicosofia proposta dal professor Presutti è una disciplina scientifica basata su metodi di ricerca euristici, intuitivi, ipotetici e creativi, e sulla riflessione introspettiva, riferendosi al possibile psichico con un ragionamento ideativo creativo, immaginativo, facendo proprie le intuizioni, gli studi della psicoanalisi di Sigmund Freud e della psicologia analitica di Carl Gustav Jung, sui simboli psichici espressi nei sogni, ad esempio, o sulle associazioni libere nel dialogo linguistico-concettual simbolico tra medico e paziente. La psicosofia integra in sé gli sviluppi nei campi delle neuroscienze, delle scienze della mente, della neuropsicologia e delle scienze umane, con la sapienza millenaria attorno alla conoscenza di se stessi, che deriva dalle culture asiatiche, indo-europee e mediterranee. E non può essere perciò confusa con le credenze e le pratiche dello psichismo associate a concezioni esoterico-animiste e, d'altro canto, a dottrine e teorie filosofiche, religiose e spirituali. La psicosofia permette alle persone di imparare a conoscere e a viaggiare nel proprio universo mentale, comprendere il vissuto di se stessi e saper essere empatici con gli altri, sviluppare e saper gestire il proprio benessere psichico e sociale, diventare capaci di realizzarsi a livello lavorativo, sociale e affettivo. Conoscere se stessi dunque è il percorso di formazione in quattro itinerari di psicosofia che ci propone il professor Presutti. Per saperne di più e partecipare, guarda il video dedicato al percorso o clicca il link in descrizione al presente video.